ciao oggi ti mostro la mia versione di una ghirlanda provenzale come ne vedi anni fa durante le prime mostre dell'artigianato che si facevano qui a milano questa è una mia interpretazione ovviamente anche un po semplificata e l'ispirazione è marina nonostante io abiti al nord ma anche campagnola spero vi piaccia ciao elenco dei materiali che io ho già usato quindi li trovate già un po consumati però sono questi saponette saponetta io ne usate due per la verità colorate profumate che potrete tenere integre come sono oppure tagliare e salomare come ho fatto io poi in casa avevo queste belle conchiglie poi delle stecche di cannella poi ancora pannocchie di mais secco taglieremo poi a pezzetti quindi ci sarà bisogno di un coltello io ho usato anche una mannaia a dire la verità perché è molto duro poi vernice di protezione proprio per il mais perché impedirà al mais di perdere tutti i chicchi troppo facilmente in breve tempo anche io ho usato questa vernice di immersione che è il classico zapon già un po tordi lo vedete poi corda o spago martello e chiodo possibilmente se l'avete questo è opzionale una limetta come questa limetta proprio piccolina rotonda e poi un piano di recupero questo è un vecchio tagliere ecco immergo nel solito zapon le pannocchie secche in questo modo quando saranno perfettamente asciutte ok riuscirò a tagliarle un pochino meglio con un po più di facilità ora sto facendo il lavoro con una sola mano comunque il principio è questo come vedete ho legato la pannocchia ad un pezzettino di filo di ferro adesso la faccio sgocciolare e poi la farò asciugare all'aria dopo aver lasciato asciugare le pannocchie con la pannocchia la tagliamo in piccoli pezzi in cilindri di circa 3 massimo 4 cm sarà un pochino faticoso ma si riuscirà abbastanza bene con un coltello con la sega un pochino fattato la notte all'acqua nella parte серia è un coltello con la tippo e appare la pannocchia ecco vedete avere messo un po' di vernice impedisce di perdere troppi semi adesso tagliamo i pezzi che ci servono poi diamo un'altra passata di vernice per sigillare anche questi lati ora pratichiamo un foro passante con un chiodo facciamo che sia sufficientemente largo perché poi ci passerà lo spago ecco adesso agganciamo i pezzetti con il filo di ferro in questo modo A presto. Immergiamoli nella vernice e facciamoli scolare per bene su un pezzo di carta prima di metterli ad asciugare. Facciamo la prova con la corda naturalmente. Ecco, vedete? Vediamo un capo qualsiasi. Sì, vedete che è perfetto. Sì, vedete. Ecco fatto. Ora, l'ultima cosa che ci rimane da fare è quella di sistemare le saponette se vogliamo tagliarle, a meno che non abbiamo già saponette piccole o della forma e della dimensione che vogliamo. Io le mie le taglierò in triangoli perché sono piuttosto grandi e poi farò i lati perpendicolari. e poi farò i lati perpendicolari. non sono stata molto brava a recuperare il sapone, quindi ne userò solamente due pezzi anziché tre. Voi naturalmente sarete più bravi di me e ne taglierete il numero che desiderate. Con un chiodo pratico un foro al centro del sapone. Ok. Ed ora procediamo con la prova di composizione. Provo con il modulo che poi ripeterò varie volte, tre volte. che potrebbe essere, manca, dunque non manca nulla, potrebbe essere questo, per esempio. Conchiglia. Poi ripeto lo stesso modulo. Direi che così può andare. Quindi conchiglia, mais, cannella, saponetta, conchiglia, mais, cannella, saponetta, conchiglia, mais, cannella. E cannella chiuderà la fila. Prendiamo una corda che sia molto lunga, almeno due metri, per essere sicuri di non rimanere senza lunghezza. Facciamo un cappio molto largo. E ben stretto come questo, ok? Poi da sotto cominciamo ad infilare gli elementi. Una volta fatto il cappio, per il momento lasciamo questo, che potrebbe essere anche così, abbastanza gradevole da lasciare in questo modo. Allora, a circa, diciamo, 5 cm dal cappio faccio il primo nodo. Un nodo semplice. Ecco, ora posso infilare la prima conchiglia. Da sopra, in questo modo. Facciamo un secondo nodo. Ad altri 5 cm dalla conchiglia pratico un secondo nodo. Ed infilo il secondo elemento. Ecco, il terzo elemento lo annoderò semplicemente così, fra un paio di nodi doppi. Quedato. Allora, lo rendiamo la prima. Non 여자ind甚麼? Non. No. 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 Lo rifilo un pochino per renderlo più compatto. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie a tutti! Ecco fatto! Vogliamo vedere l'effetto che fa una volta appeso? Oh, Micia! Micia! Micia, che fai sulla terrazza dei nostri vicini? Allora, adesso vi faccio vedere dove ho messo la rirlanda. Eccola qui! Allora, io l'ho messa qui, spero che si veda perché incontro luce, eccola, guarda un po'. Vicino alla mia credenza rustica. Così fa un po' il pandano, diciamo, con l'ambiente rustico di casa, vedete? E con i colori di casa. Eccola qui! E con la rutta e con tutto il resto. Che ne dite, vi piace? Ciao, alla prossima!